Ciao, io mi chiamo Domenico Trotta, sono un ragazzo di 27 anni, vengo dalla provincia di Salerno sono qui in UK perché suono un tecnico del suono, meglio sound engineer, qui lo chiamano e tour manager Per chi lo sapesse, il tecnico del suono, il cosiddetto fonico, si occupa di mixare le band mentre il tour manager è quella figura che si occupa di seguire le band in giro per il mondo per le varie serate, organizza spostamenti, prenotazioni di alberghi, load in, load out, eccetera eccetera Prima di raccontarti un po' la mia piccola storia, volevo ringraziare Nocciolino24 per avermi dato questa occasione Io mi sono innamorato di questo paese 11 anni fa, in lontano 2004 quando sono venuto qui per la prima volta per una vacanza studio sono tornato in Italia e ho continuato a seguire la mia passione che riguarda sempre la musica ho studiato, ho fatto un corso come tecnico del suono a Napoli ho avuto questa brillante idea di aprire una mia società in Italia una società che appunto si occupava di allestimenti per lo spettacolo però purtroppo ahimè dopo 5 anni, presso a poco, sì diciamo che ho deciso di chiudere per varie vicissitudini quali burocrazia italiana, i clienti, la mentalità purtroppo delle persone che ahimè è abbastanza chiusa e diciamo che quindi ho venduto tutto quello che avevo fino al 2012, inizio 2013 veni qui e provai, diciamo, a cercare di trovare qualcosa sempre inerente però a quello che facevo io sono venuto qui con pochissimi soldi e niente, però dopo 3 mesi e mezzo non ho trovato realmente quello che cercavo e quindi ho deciso di tornare in Italia avevo degli amici che lavoravano per le navi da crociera sono stato imbarcato circa un anno e qualcosa ho messo da parte un po' di soldi ed eccomi qua, sono ritornato felicemente qui premetto che su una navi da crociera lavoravo sempre come fonico diciamo i 3 mesi di esperienza che ho avuto qui a Londra un po' di anni fa mi sono serviti perché quando sono venuto qui sono tornato abbastanza preparato più o meno sapevo come muovermi avevo già l'account bancario aperto e ho fatto già la richiesta del NIN all'epoca quando ero qui quindi avevo già un po' di cose avviate avevo messo i soldi da parte perché avevo deciso anche di fare questo corso che avevo trovato su internet e poi in questo lasso di tempo, in quest'anno che sono stato diciamo in nave ho migliorato diciamo un po' il mio inglese ho scaricato un sacco di film in inglese, video in inglese su youtube quindi tutte le sere stavo davanti al computer a vedere video a migliorare, a migliorare a cercare di capire cosa dicevano a volte con i sottotitoli in inglese, a volte senza i sottotitoli solamente in inglese un conclusione che ti posso dare è proprio questo cioè cerca di focalizzarti molto sulla lingua perché purtroppo qui siamo in tanti c'è tanta gente e c'è tanta concorrenza io la chiamo purtroppo la giungla della pioggia perché il tempo è quello che è e la giungla è per le persone che ci sono che purtroppo è così però io penso che se dimostri di valere se puoi dare qualcosa a qualcuno che altre persone o un altro tuo concorrente non può dare tu hai la possibilità di andare avanti cioè di riuscire in quello che vuoi diciamo che io per il momento non ho un lavoro fisso perché purtroppo il mio lavoro per quello che faccio non puoi avere un lavoro fisso a meno che non lavori per qualche grande rental in magazzino eccetera eccetera ma non è proprio quello che cerco diciamo avevo già l'obiettivo mio di che io devo mandare a Londra perché devo fare il fonico devo fare il tour manager devo seguire i gruppi devo seguire le band devo lavorare per la musica è una passione che coltivo già da 11 anni non ho mai cambiato strada cioè non ho mai deciso di cambiare lavoro di fare qualche altra cosa questo è il posto giusto per realizzare quello che vuoi faccio lavori come backline ogni tanto come tecnico come fonico e niente poi adesso sto aspettando di finire questo corso nel frattempo comunque sto già iniziando a trovarmi diciamo i miei clienti iniziando a contattare mandando il curriculum se tu sei interessato per esempio al settore questo qua della musica sono importanti le referenze quindi anche se vieni dall'Italia non hai problemi quando fai il tuo curriculum basta inserire alla fine un nominativo delle persone che ti possono fare da referenza se ti serve aiuto qui a Londra io ti posso anche se non sono andato da loro perché vivo in una zona abbastanza dall'altra parte diciamo verso Wimbledon quindi Wimbledon dove Wimbledon dove non ha non ha case a questa parte io ti consiglio di di contattare loro perché ho mandato altri miei amici quando vi ero in nave e si sono trovati tutti quanti bene quindi se se vuoi se decidi di venire qui contattali perché sono veramente persone tranquille si mettono a disposizione non creano problemi per nessuna cosa le case sono pulite perché ho visto delle foto altri miei amici che ci sono stati mi hanno detto mi hanno lasciato sempre commenti positivi quindi ti posso garantire che con loro troverai il giusto apporto io spero che tu possa realizzare quello che vuoi dalla tua vita se ami una cosa falla cioè se hai un desiderio se hai un sogno non pensare a quello che ti dice la gente perché non immagini quante persone a me mi hanno deriso mi hanno detto ma che fai il lavoro che fai tu non è un lavoro che ti può dare chissà quante soddisfazioni o chissà quanti guadagni qualsiasi lavoro fai devi fare la gavetta qualsiasi lavoro fai devi fare i sacrifici seppure una sera non puoi andare a mangiare la pizza perché devi conservare i soldi per pagare l'abbonamento del pullman fallo fallo quando sei all'inizio perché dopo credimi quando entri nel mondo del lavoro inglese i soldi si vedono il giusto si vede io ho conosciuto amici miei che mi hanno raccontato storie anche assurde a volte che hanno lavorato per ore d'ore però credimi ho conosciuto anche persone che lavorano il giusto guadagnano il giusto e si lamentavano però c'erano quelle persone che lavoravano tantissimo ma erano felici di vivere a Londra loro dicevano Mimmo io sono contento va bene così pur se devo lavorare quelle ore in più per me va bene però io sto in un posto dove vivo bene sto tranquillo con me stessa quindi il consiglio che ti posso dare è questo se hai un sogno e il tuo sogno è quello di venire qui a Londra fallo perché questo è il posto veramente dove puoi realizzarti è difficile io non ti posso dire tu domani vieni e trovi lavoro perché ho conosciuto tante persone che non hanno trovato lavoro dopo una settimana dopo due settimane dopo tre settimane alcuni anche dopo un mese però ci sono anche persone che dopo una settimana l'hanno trovato dopo due settimane l'hanno trovato io penso che l'unica cosa che ti posso dire è credi in quello che vuoi vieni qui con le idee ben chiare si positivo pensa sempre in positivo tutte le cose negative che ti vengono dette dalle persone trasformale in cose positive per te io ho sempre detto una cosa le persone che mi dicevano ma chi te lo fa fare torna in Italia qualcosa trovi io ho un sogno ho sempre voluto lavorare in questo settore nel settore della musica sono 11 anni che lo faccio tra poco saranno quasi 12 io ci credo ma principalmente credo in me stesso quindi se anche tu credi in te stesso credimi non c'è soddisfazione più bella che poter andare in un nuovo paese superare tutti gli ostacoli che si trovano davanti a te e alla fine poter dire io ce l'ho fatta provaci vieni tenta è un'esperienza e alla fine ti può essere utile ti può non essere utile ti può far crescere ah un'altra cosa io sentivo l'altro giorno da alcuni video un video di nocciolino che parlavano dell'età eccetera eccetera io l'altro giorno ho visto una battuta con nocciolino ma non è una battuta purtroppo è la verità io ho sempre detto questo l'età è solo un numero che è scritto su un semplice foglio di carta se hai 30 anni se hai 40 anni ad esempio tu hai 40 anni vieni a Londra se hai il desiderio di fare l'ingegnere se hai il desiderio di fare qualsiasi cosa oppure se hai il desiderio di fare il fuoco per una compagnia un ristorante vieni a Londra provaci perché qualcosa otterrai l'età è un numero cioè io dico sei giovani dentro sembra forse una battuta una cosa scontata ma alla fine la realtà delle cose è quella pensa sempre positivo perché se ti porti la negatività presso è finita è difficile so stare lontano da casa lontano dagli amici te lo dice uno che ormai sono quasi 4 anni e qualcosa che giro tra nave Londra sono stato a Roma ho girato un bel po' la vita è tua sei tu a decidere cosa vuoi dalla tua vita c'è il momento in cui uno deve darsi da fare per realizzare se stesso è il momento in cui uno si può dedicare alla famiglia qui non è detto che non puoi tornare a casa gli aeroporti qui ce ne sono 5-4 non ricordo neanche quando ce ne sono ci sono buoni tutti i giorni a qualsiasi ora economici eccetera eccetera quindi non farti nessun problema non trovare la scusa ad esempio esiste skype esiste whatsapp esiste di tutto se vuoi realizzare qualcosa questo è il posto giusto qui veramente va avanti chi vale a differenza dell'Italia goditi la vita perché ce n'è una sola una volta si vive quindi se vuoi fare una cosa falla adesso perché sennò dopo te ne pentirai vada bene o vada male ci hai provato hai fatto un'esperienza hai conosciuto nuove persone hai imparato una nuova lingua ci sono tante cose positive che uno ne può trarre da un'esperienza anche se diventa negativa spero che questo mio piccolo video ti abbia aiutato a prendere la decisione di fare le valigie per notare il biglietto e venire qui a Londra mi permetto di pubblicizzare un po' la mia io la mia pagina facebook personale che è tratta domenico giusto così se vuoi mandarmi qualche messaggio che ti serve qualche informazione su qualcosa sono aperto a tutti i tipi di 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 aiuti tranne economici perché ho il caso non scherzo nel senso non è che scherzo aiuti normali e niente poi il mio sito internet che è www.trottadomenico.com che se vuoi non so ho scritto vari articoli eccetera eccetera lì puoi vedere un po' tutte le mie vicissitudini avute in tutti questi anni e niente un saluto e grazie al nocciolino ancora e viva viva il London Way grazie a tutti i miei